vediamo come creare facilmente il libro multimediale con book creator ci basterà digitare book creator nella barra di ricerca google e questo il primo risultato che ci viene restituito book creator punto com ci clicchiamo sopra per essere reindirizzati alla home page di book creator e quindi scorriamo verso il basso clicchiamo su get started for free possiamo accedere sia come studenti anche tramite un qr code che ci verrà assegnato dall'insegnante oppure accediamo come insegnanti io adesso accedo con il mio account di google una volta effettuato l'accesso questa sarà la nostra pagina di lavoro book creator ci dà la possibilità di creare dei libri multimediali all'interno dei quali possiamo inserire qualsiasi tipo di contenuto per creare un nuovo libro ci basterà cliccare qua in alto a destra sul nuovo libro quindi scegliere il formato per il nostro libro e quindi scegliere uno sfondo per la copertina cliccando qua su questa i io posso scegliere lo sfondo anche filtrando per categorie adesso ne scegliamo uno a puro titolo esemplificativo e inseriamo poi un titolo per il nostro per la nostra copertina cliccando su questo segno più io vado qua cliccare sul testo posso facilmente aggiungere un titolo cliccando su title ho la possibilità di digitare sia manualmente oppure di utilizzare la digitazione vocale opzione questa molto interessante anche dal punto di vista dell'inclusione da quindi la possibilità di creare dei mini ebook anche a dei bambini che non sanno scrivere clicco su questo microfono testo di prova e quindi clicco su fatto per aggiungere il mio titolo posso poi ancora modificare questo testo cliccandoci di nuovo sopra poi tasto destro del mouse e posso per esempio modificare il formato cambiando la misura il carattere o il colore bene una volta che abbiamo creato la nostra copertina andiamo adesso a gestire le pagine del nostro ebook le pagine le possiamo facilmente gestire anche cliccando qua in alto a sinistra dove c'è scritto pagine abbiamo tre pagine che sono già pronte per aggiungere una nuova pagina mi basterà cliccare su questi tre puntini e come vedete posso copiare la pagina spostarla inserirne una nuova oppure posso eliminarla andiamo adesso a lavorare dentro le singole pagine quindi clicco sulla pagina nella quale voglio lavorare e inizio inserire i miei contenuti cliccando sempre su questo segno più ho la possibilità di aggiungere dei pannelli dei fumetti e ancora dei testi quindi clicco su pannelli scelgo il tipo di pannello che voglio inserire posso sbloccare questo pannello in modo da poterlo poi modificare a mio piacimento clicco ancora su questo segno più e vado ad aggiungere il mio fumetto all'interno del fumetto io poi posso ancora aggiungere del testo quindi clicco ancora sul segno più vado a cliccare sul testo questa volta aggiungo del testo semplice utilizzeremo ancora la digitazione vocale ciao come stai posso aggiungere manualmente il punto interrogativo come vedete io posso trasformare il testo in grassetti in corsivo a sottolinearlo ma posso soprattutto anche aggiungere un link cliccando qua su aggiungi link io posso inserire qua un indirizzo internet a una qualsiasi risorsa che ho scelto per i ragazzi clicco quindi su fatto e aggiungo il mio testo che poi posso facilmente spostare all'interno del mio ebook bene abbiamo visto come aggiungere pannelli fumetti e testi vediamo adesso come aggiungere contenuti multimediali cliccando qua su media io la possibilità di importare qualsiasi tipo di contenuto clicco su importa posso importare immagini direttamente da google mappe file dal mio computer da google drive così come posso incorporare dei codici come per esempio un codice di un video di youtube proviamo adesso inserire un'immagine cercandola da google quindi filtro per categorie persone per esempio avvio la ricerca scelgo l'immagine e clicco su seleziona l'immagine verrà inserita all'interno dell'ebook una volta caricata io ci clicco sopra e posso ancora regolarla utilizzando le funzioni di trascinamento la sposto quindi nella posizione voluta io posso poi regolare anche la posizione degli elementi all'interno del testo infatti se io clicco qua su sulla foto e poi tasto destro del mouse posso spostare indietro la mia foto in questo caso l'abbiamo spostata troppo indietro ecco adesso possiamo facilmente regolare anche il nostro fumetto ancora se io clicco su questo segno o più e ancora su contenuti multimediali posso aggiungere anche foto o video che posso registrare direttamente con la fotocamera con la webcam del mio computer posso poi utilizzare la penna per aggiungere dei disegni a mano e funziona molto interessante quella della penna automatica che riconosce i disegni e ci dà delle immagini che possano corrispondere a ciò che volevamo disegnare facciamo un esempio clicco su auto provo a tracciare qualcosa all'interno del foglio e mi vengono proposte delle immagini che potrebbero corrispondere a quello che è il mio disegno un'opzione molto interessante ovviamente per bambini che hanno difficoltà a grafo motore o che ancora non sanno disegnare ora clicchiamo su una qualsiasi immagine a puro titolo esemplificativo una volta inserita l'immagine possiamo poi facilmente regolarla quindi chiudiamo e clicchiamo su fatto qua in alto a destra ancora cliccando su questo segno più e cliccando su media possiamo sempre aggiungere del testo come abbiamo visto e poi opzione molto interessante possiamo registrare dell'audio se io clicco qua su registra ho la possibilità di registrare direttamente la mia voce cliccando poi qua in alto a destra su comincia la registrazione registrazione di prova posso riascoltare la mia registrazione eliminarla oppure utilizzarla cliccando su usa la registrazione a questo punto viene caricato il file all'interno degli buchi o posso facilmente spostarlo all'interno della mia pagina bene queste sono le funzioni principali di book creator ma sostanzialmente noi possiamo inserire qualsiasi tipo di file testo documento link all'interno del nostro libro multimediale una volta che lo abbiamo creato clicchiamo qua in alto a destra su leggilibro per presentarlo possiamo avviare la lettura automatica possiamo cliccare qua sulla rotellina per modificare alcune impostazioni come per esempio il linguaggio la riproduzione o la velocità del testo anche questa è un'opzione molto interessante dal punto di vista inclusivo e poi se vado invece sulle opzioni di condivisione ho la possibilità di pubblicarlo online di scaricarlo come book oppure di stamparlo adesso torniamo un attimo invece alla nostra pagina di lavoro per vedere ancora altre opzioni per esempio dalla pagina di lavoro se io clicco qua in basso su opzioni del libro ho la possibilità di spostarlo in una biblioteca che ho precedentemente creato posso copiarlo posso combinarlo con altri libri quindi posso unirlo ad altri libri che ho precedentemente creato che non verranno comunque eliminati quindi resteranno anche i singoli libri oltre al nuovo libro creato poi ancora un'altra opzione molto interessante è quella di poter creare delle biblioteche cliccando qua in alto a sinistra io posso creare una nuova biblioteca le biblioteche sono delle cartelle che mi permettono di riordinare i miei ebook per argomento o per categoria quindi mi basterà cliccare su crea una nuova biblioteca scegliere un titolo le mie impostazioni e quindi cliccare su crea biblioteca conseglie per dialogare